Barella in arre di rigore Che gol si ha fatto Grimaldo provo E' un'ana E mette la firma anche lui E' apparato questo tiro un'ana Calcio di punizione da qui Posizione centrale piuttosto distante Ma centrale la conclusione è stato bravo Si è tuffato in due tempi E' riuscito anche ad agguantare il pallone Attenzione forse c'era fuori giochi Gol Grazie Questa è improvviso distrazione fatale Della difesa interista Ed è uno Questa potrebbe andare Potrebbe andare Io ho detto un dato Perché in 38 minuti non erano mai entrati in area Sono entrati Aspetta Attenzione Inter in avanti Bello Palla sul fondo Di Marco In possesso di palla C'è Inzaghi che si sbraccia Mkhitaryan Bravo Vai Vai Lautaro 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 E vai Lautaro Partire E vai Lautaro Adesso non puoi togliere Lautaro Buoni Adesso si Adesso si Grande Correa in mezzo all'area di rigore Mamma mia Correa che cosa fai? Correa! Che cosa è tu? Correa! Che cosa è tu? Correa! Che cosa è tu? Correa lo metto! Correa lo metto! Correa lo metto! Correa! Correa lo metto, non ci credo! Non ci credo! Parte il cross nel mucchio, Onana non ci arriva dai, ci crediamo. E adesso con un ano in queste quantità E' nulla E' gole, gole 3 a 2 3 a 2 Buon giocatore sto Tavendi C'è tempo per il cross Brozovic cerca di impedirlo Pensate a Zag E' finito Polino Quanto vent'anni è a Roderli E' la tempo No, no No